Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. Ragazzi, non ho fatto in tempo a darvi la buona notizia della data ufficiale dell'aggiornamento 2.3.0 che fino a oggi doveva arrivare il 15 dicembre che Konami subito, puntuale come un releggino svizzero, manda tutto all'aria e posticipa l'aggiornamento. Cioè, praticamente il giorno prima ha detto, eh ragazzi, il 15 esce l'aggiornamento, il giorno dopo, no ragazzi, non esce più. Quando esce, boh, non si sa. In parole povere, adesso entrerò di più nel dettaglio, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Prima di andare avanti, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale. Non andate avanti senza lasciare l'iscrizione con la campanella attivata perché è il massimo supporto gratuito che potete dare a questa community. Un altro ottimo modo per supportarmi è lasciare un like a questo contenuto che aiuta tantissimo l'andamento del video e fare i propri acquisti Amazon tramite il link che trovate in descrizione. Non costa un euro di più, pagate soltanto ciò che acquistate. Eccoci qua ragazzi, purtroppo siamo sul sito ufficiale Konami, ovviamente, di football. E dico purtroppo perché non è, non è per niente una bella notizia. Infatti, come già detto, ieri la cara mamma Konami ha dato una buona notizia, cioè che l'aggiornamento 2.3.0 sarebbe arrivato il 15 dicembre. L'aggiornamento che avrebbe dovuto portare molto probabilmente il crossplay e l'uscita delle squadre offline, molto probabilmente. Questo poi non è stato confermato. Però, ragazzi, è arrivata la drambata, come già detto, perché oggi, di buon mattino, sempre sul sito ufficiale, Konami dice che l'aggiornamento versione 2.3.0 precedentemente previsto per il 15 dicembre è stato, purtroppo, posticipato, è stato rimandato. Le informazioni riguardanti la nuova data di rilascio saranno comunicate in un futuro annuncio. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. Allora, partiamo da un presupposto. Già ieri Galvani aveva fatto un tweet, Renan Galvani, il noto influencer brasiliano, aveva fatto un tweet che non faceva besperare. Infatti, in questo tweet lui diceva ragazzi, questo sarà un aggiornamento intermedio, non arriverà il crossplay, non arriverà nulla, ma ci saranno soltanto dei preparativi in vista del prossimo aggiornamento che porterà il crossplay squadre offline, eccetera. Ma al di là di questo, che era solo una sua sensazione, io personalmente penso che il motivo per cui Konami abbia rimandato l'aggiornamento è che fin dall'inizio voleva rimandarlo. Cioè, l'annuncio che ha fatto è stato un modo per lavarsi le mani. Cioè, nel senso, vedi, noi volevamo fare uscire l'aggiornamento, il 15, e sicuramente poi diranno, no, ci doveva essere anche il crossplay, ci doveva essere tutto, ma abbiamo avuto dei problemi, e quindi è slittato. È slittato proprio perché stiamo preparando il crossplay. Insomma, sicuramente una cosa del genere. Cioè, in questo modo, se ci pensate bene, si sono lavate le mani, perché loro ci hanno provato a rispettare quello che hanno detto, ma hanno avuto i fantomatici problemi che hanno sempre. Secondo me, invece, era tutto premeditato. Cioè, secondo me, fin dall'inizio non sarebbe dovuto uscire niente. Cioè, è tutto uno scherzetto che ci ha fatto Konami, ragazzi. Perché, in realtà, non sono pronti. Come vi ho detto nel video di ieri, in un tweet del 31 maggio ufficiale, perché il loro account Twitter ufficiale avevano promesso entro la fine dell'anno, quindi entro la fine dell'anno, entro il 31, il crossplay e le squadre offline, ma siccome non sono assolutamente pronti, o forse se ne sbattono, raga, una delle due, questo, secondo me, è stato un modo per prenderci ulteriormente in giro e rimandare tutto. Ormai ha senso arrabbiarsi? No, non ha più senso arrabbiarsi, perché abbiamo capito che, in ogni caso, il rispetto per i consumatori non lo hanno e fanno assolutamente ciò che vogliono, e quindi dobbiamo semplicemente mandare giù questo ennesimo boccone amaro ed accettare che probabilmente a dicembre non arriverà nessun aggiornamento, aggiornamento che era previsto, cioè gli influencer, Calvani, anche me compreso, voglio mettermi anche io in mezzo alla lista, cioè ci abbiamo preso, dicendo parecchi mesi prima di quest'uscita che a dicembre sarebbe arrivato un aggiornamento, perché l'aggiornamento è stato annunciato, ma poi si sono tirati indietro, tutto sulle carte, tutto sul sito ufficiale, quindi ragazzi, questo è proprio che loro lo sanno che stanno sbagliando, secondo me, lo sanno che Konami in sé sa che sta facendo errori su errori su errori su errori, però cerca di sfuggire, cerca di trovare scuse, diciamo, perché mi puzza troppo questo fatto che il giorno prima dici l'aggiornamento arriverà il 15 e poi dopo un giorno non arriva più l'aggiornamento abbiamo avuto dei problemi, secondo me è tutto premeditato, già sapevano che sarebbe stato rimandato, hanno fatto l'annuncio della data per poi poter rimandare, questo è quanto, perché in questo modo hanno fatto vedere che ci hanno provato, non so se mi spiego. Quindi adesso ragazzi non ci resta che attendere, vi dico come la penso, secondo me verrà slittato tutto ai primi di gennaio, cioè con l'anno nuovo ci sarà l'aggiornamento che porterà crossplay, squadre offline, un mesetto in ritardo, sì, però comunque arriveranno, ecco, non è che posticipano tutto per me, entro gennaio arrivano secondo me, semplicemente avevano bisogno ancora di qualche settimana e non hanno avuto il coraggio di dire ragazzi abbiamo bisogno ancora di qualche settimana, no, hanno preferito fare questo enorme teatrino, perché secondo me questo è stato un teatrino. E ripeto, al di là del fatto che Renan aveva detto eh ma secondo me questo è un aggiornamento intermedio, lasciamo sta quello che dice Renan, io mi sono basato sui tweet ufficiali dell'account play football che vi ho mostrato nel video di ieri, andatevelo a recuperare se ve lo siete persi, o neanche vi mostro le cose cento volte. In quei tweet c'era scritto che entro la fine dell'anno sarebbero arrivate crossplay e squadre offline, quindi su quello mi baso io. Renan Galvani ogni tanto ci prende, ogni tanto no, per quanto possa essere bravo ed affidabile. quindi io questa volta mi sono basato proprio su robe ufficiali date da Konami e questo secondo me è proprio la conferma che non ci stanno dentro ancora, cioè nel senso di testa non ci stanno dentro perché come fai a prendere in giro così il consumatore? Secondo me la cosa più saggia sarebbe stato dire fin dall'inizio raga a dicembre salta l'aggiornamento, lo distribuiamo a gennaio. Io avrei trovato questa manovra molto molto più corretta fatemi sapere che ne pensate nei commenti. E ragazzi io direi che per questo contenuto può bastare così ditemi la vostra nei commenti come già detto ormai lo ripeto non ci resta che aspettare perché con Konami è un'attesa infinita però secondo me entro gennaio i primi di gennaio massimo ecco avremo il crossplay le squadre offline arriverà tutto almeno questa è una mia opinione perché se non è dicembre sicuramente sarà gennaio chiedo scusa se qualcuno di voi si accorge che sono senza voce insomma ogni tanto se ne va un attimino la voce perché ancora non mi passa questo pizzicorieco in gola dopo l'influenza è rimasto però piano piano va meglio comunque questo è sicuro va meglio non mancate le 18 puntuali su questo canale ragazzi che c'è il rotto glory io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio e un saluto alla vostra timo play bella ragaz ciao Ciao